L'organico della Polizia Municipale, come ben sappiamo, non rispetta quelli che sono gli standard e nonostante noi vorranno poter assumerlo, purtroppo come da rete non possiamo per il blocco delle assunzioni. I dati sono assolutamente importanti per quanto riguarda, sottolineano il grande impegno della Polizia Municipale che ci sarebbe poter aumentare il presidio. 13.000 ore di servizio a piedato, quindi servizi di prossimità, più di 750 contatti con commercianti, con residenti e cittadini secondo me sono numeri importanti, 16.000 accertamenti anagrafici fanno capire che comunque il vigile è presente nei quartieri, si confronta con la gente, ci piacerebbe poter aumentare ulteriormente questa presenza, però c'è bisogno di uomo.